Una conferenza internazionale sull'arte, quella che si svolgerà a partire da venerdì fino a domenica 21 dicembre all'ex mulino forti di Carrara. Il teatro fra tradizione e contemporaneità, e questo è il titolo dell'evento organizzato da UGT International University Global Theater Experience, che esplorerà i confini tra tradizione e contemporaneità delle diverse forme artistiche, dal teatro alla danza, dalla musica alle arti multimediali, dal design a tutto ciò che è arte e creatività. Dopo aver girato tutta l'Europa a questa conferenza Proden Italia, a Carrara in particolare, i partecipanti arriveranno dai cinque continenti, saranno rappresentate 25 nazioni. Avremo insegnanti da molti paesi del mondo e un programma molto vario, teatro, danza, arti visuali, multimediali e design. Potremmo vedere tutte queste discipline in un contesto multiculturale. Un contesto multiculturale, in multicultural context. Hai detto prima in conferenza stampa che sei molto felice di partecipare a un evento così in Italia. Perché? Perché ho avuto l'opportunità di partecipare a eventi di questo tipo in altri paesi, in Canada e negli Stati Uniti, ed è stato davvero bellissimo a livello personale, artistico, culturale, questo incontro di tanti paesi diversi. Adesso avere l'opportunità di seguire un evento così in Italia è davvero una cosa bellissima. Io poi sono italiana ma vivo in Germania, quindi finalmente stare nel mio paese d'origine, avere questa opportunità, è proprio una bella occasione. L'evento è patrocinato dal comune di Carrara. È un progetto molto importante perché è un progetto internazionale, per di più, mette insieme artisti di varie discipline per confermare l'unità dell'arte come progetto volto alla crescita culturale delle persone. Sono orgogliosa che si faccia Carrara perché Carrara ha una vocazione internazionale.